Buon Natale a tutti, 25 dicembre 2022, Devi risponde, terza puntata, serie dove vado a rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità tramite l'hashtag Devi risponde. No, non metto niente a video perché insomma non c'ho tempo manco per, figurati per editare. Allora partiamo subito, come sempre, prima dico il nome e poi la domanda o la curiosità. Alberto Santoni, Devi risponde, ciao Devi, cosa ne pensi dei costi di riparazione che ci sono su War Thunder? Io sinceramente li toglierei per svariati motivi, un bacione, ti si vuole bene. Allora, per quanto riguarda i costi di riparazione, sicuramente è una componente, al netto che l'hanno cercata di fixare più volte nel tempo, che ti tira un po' indietro su War Thunder, soprattutto perché ci sono delle unità premium che, secondo me, lo dico tutt'ora, il che è tutto collegato per quanto riguarda l'economia di gioco, non ti pagano abbastanza. Perché se un'unità premium o la missione ti pagasse un po' di più, tu i costi di riparazione non andresti a sentirli. Quindi o lavoriamo per aumentare i guadagni, oppure lavoriamo per diminuire i costi. In entrambe le circostanze, fare un po' e un po', secondo me, non sarebbe una cosa errata. Tommy Mods, Devi rispondere, a me sinceramente piaceva di più la disposizione vecchia dove si vedeva il PC, semplicemente per il fatto che c'erano più colori ed era più carino, mentre adesso lo sfondo bianco è più triste. Secondo me, basterebbe mettere come sfondo una prete di un appartamento per raggiungere più colore e anche atmosfera. Chiaramente parlo per quei video dove metti uno sfondo come nel secondo canale o anche in video come questo. Comunque sei il migliore e ti guardo lo stesso. Scusate, però, mentre sto montando questo video, vedevo l'altro per un bordello come al solito. Per la domanda, effettivamente mi rendo conto che lo sfondo bianco, comunque sia, non c'è più perché c'è il green screen, potrebbe essere un po' ripetitivo e noioso. Infatti sto cercando di trovare un qualcosa che meglio si possa adattare appunto allo sfondo. Però, anche per il secondo canale, perché l'hai citato, spero che le persone apprezzino più le mie parole rispetto allo sfondo. Ripeto, in un video su YouTube lo sfondo comunque sia importante. È importante l'audio, è importante l'illuminazione, è importante lo sfondo, è tutto importante. Però ritengo che attualmente possa passare in qualche modo questo fattore, ok? Però è in work in progress. Andrea il Toscano. No, in realtà non è una domanda. Beh, alla fine ogni gameplay è un tutorial al suo modo, rispondeva un utente precedente. Delkissisa. Devi rispondere, qual è la tua unità che ti piace di meno su War Thunder? PS, sei un grande e continua così. Aspetta, perché l'unità che mi piace di meno su War Thunder ce ne sarebbero molteplici. Però te le posso riassumere in un grande contenitore, che sono tutte le unità che hanno le gomme. Quindi i gommati su War Thunder non mi piacciono, perché sono delle unità che mostrano una particolare difficoltà nei movimenti. Se c'è un terreno sabbioso, se c'è un terreno pieno di neve, fango e quant'altro, le ruote ovviamente vanno ad affossarsi e quindi l'unità non si muove. Siamo a Natale, non a Carnevale, quindi le vostre frasi del cavolo possiamo anche risparmiarle, che dite, almeno quest'anno. Grazie. E quindi tutte le unità gommate, anche perché poi se si devono muovere, se devono ruotare a 360 gradi, non possono farlo, perché non hanno i cingoli, si devono per forza muovere avanti o indietro. Non mi piacciono. Giovanni Marco De Simone, Dave risponde, cosa mi consigli di fare quando dopo aver giocato molte partite su War Thunder, in cui incontravo solo carri armati russi, che mi uccidevano in mille modi, diversi, a volte appena spavolato ad avere voglia di continuare. Comunque mi sono iscritto da poco, ma dal poco che ho visto sei un grande. Diciamo che la voglia di giocare viene da sé, mi verrebbe da dire. Se sei stato distrutto più volte nel tempo, è perché evidentemente qualcosa di errato è stato commesso. Una soluzione potrebbe essere, se vedi che le stai perdendo tutte, ma è una cosa che faccio anche io, semplicemente chiudi il gioco, fai un'altra cosa, e poi gioca dopo. Fai cambiare un pochino il matchmaking, un pochino la ruota, falla girare, e poi riprova. Se continui a perdere, evidentemente proprio durante il giorno, fai proprio altro, ok? Ti riconnetti il giorno dopo. Blitz 554. Dave risponde, farai mai una tier list dei mezzi o mappe o unità per nazioni su War Thunder? Magari ci fai una miniserie. Potrebbe essere una bella idea quella di fare una tier list dei mezzi e elencare anche le mappe. Però ti posso già dire che in anteprima, mi verrebbe un video nel video, che per quanto riguarda le mappe, sicuramente per quanto riguarda a livello tattico, se spawni da una parte rispetto all'altra, nord o sud, però in definitiva, ci sono alcune mappe che io ho messo nella lista nera di mappe che non voglio giocare, e quindi ci sono alcune mappe innevate, alcune mappe gigantesche, che secondo me, quelle già ti dico subito che avrebbero un punteggio molto negativo, perché io, come dico sempre, voglio sparare subito, non voglio queste mappe gigantesche, come anche la mappa Spagna, mappa aerea, l'abbiamo vista nel gameplay della 6, della 6, ok? Quindi ci sono alcune mappe che oggettivamente sono brutte e altre molto più belle, basti pensare anche a Polonia d'inverno, è la stessa mappa, però basta che ci ha messo un po' di neve ed è fantastica, ma Polonia solo può permettere di avere la neve, ok? Quella mappa sì, può permettersi di avere la neve, altre mappe no, perché sono strutturate male, cioè c'è praticamente neve ovunque, bruttissimo. Daniele e Shon, Dave rispondi, Dave in passato avevi caricato un video dove hai raccontato di quando ti eri perso con una ragazza, sì, me lo ricordo, e purtroppo me l'hai fatto ricordare, mi vorrebbe da dire, caricherai altri video dove ci racconterai altre storie del genere, magari più belle? Allora, in realtà alcune storie vorrei raccontarvele, però devo valutare se espormi così tanto, però nel 2023 diciamo che questo canale 2.0 parte sempre di più e quindi potrebbe esserci spazio nuovamente per questa tipologia di video. Andino, Fiat 4x4, Dave risponde, esiste veramente il Russian BS support under? Ti si vuole bene? Allora, spieghiamo brevemente, il Russian BS è, diciamo, una, come dire, una specie di complotto secondo la quale le unità sovietiche siano migliori all'interno di War Thunder perché appunto il gioco è sviluppato da, mi sa, Russia o comunque sia, quella zona del pianeta, va bene? E quindi appunto vanno a favorire quelle unità. Potrebbe esserci un, una verità di fondo che sicuramente le unità sovietiche sono molto potenti e in alcune circostanze dici, ma com'è possibile che non sono esploso? Ok, ti graziano spesso e volentieri. Ora, io non voglio gridare al complotto perché non ho nulla di, diciamo, non ho, non ho accesso ai server del gioco dove posso vedere effettivamente i parametri dei carri armati stessi. Quindi, ogni valutazione è del tutto personale, ma non c'è nulla di concreto al 100%, anzi, io mi stupisco di alcune persone come anche su World of Warships che inneggiavano in qualche modo al complotto oppure, insomma, io ci andrei cauti, non è il caso tuo, però ci andrei cauti nel, in qualche modo, diffamare un gioco, ok? Ho letto commenti anche sui forum, ma non solo in italiano, eh, anche di altri, di altre nazioni dove proprio si accanivano e io dico ragazzi andiamoci piano perché comunque sia io fossi appunto una di queste aziende prenderei dei provvedimenti perché alla fin fine voglio dire il gioco è questo. o hai accesso ai file di gioco oppure stiamo parlando dell'aria fritta, ok? E' così. O perlomeno è quel che penso. Comunque sia, secondo me, per rispondere nel merito alla domanda sicuramente sono delle unità molto potenti, però non lo so perché non ho i dati concreti, ok, su cui basare la mia tesi completa. Oblo 1 devi rispondere nella tua vita ti consideri uno youtuber continua se è un grande. Io mi considero una persona che intende guadagnare dei soldi e lo dico non per essere una persona avida, io non sono una persona avida, non sono una persona che si vuole mettere in mostra, niente di tutto questo. Sono una semplicissima persona che prova a sopravvivere all'interno dell'ecosistema italiano che tutti noi conosciamo. più o meno grandi perché mi seguite tra l'altro apro una parentesi l'analytics del mio canale dice che molte persone mi seguono non mi seguono solo i ragazzini ok, i bambini come qualcuno può pensare bensì mi seguono persone comunque sia abbastanza più mature e più grandi non voglio discriminare nessuno però il canale è seguito anche e soprattutto da persone più grandi che hanno non dico la mia età ma poco ci manca sfatiamo anche magari questo mito di chi pensa che appunto mi seguono solo i ragazzini per dire cosa che appunto io sono mi ritengo uno youtuber nella fase in cui io registro i video per davy g90 games e per il secondo canale quindi sì sono anche uno youtuber ok però non solo questo mi mi fa guadagnare pandino fiat 4x4 altra domanda hai mai giocato a world of tanks sì cosa ne pensi di questo gioco confrontato a world thunder grazie mille devi è un gioco molto più arcade è un gioco dove una partita massimo ti dura quei 10 minuti ok quindi è un gioco molto più frenetico da alcuni punti di vista e mentre world thunder è molto più molto più calmo più rilassante più tattico l'ho già detto più anche completo perché world of tanks come suggerisce il nome è solo carri armati io dico sempre che world thunder è l'insieme di world of tanks world of warships e world of warplanes ok anche se la tipologia di danno è diversa è una serie di altre cose però concettualmente se ci fate caso è così world thunder tra l'altro vabbè andiamo un po' avanti nel tempo secondo me ci saranno sempre nuove unità i sommergibili saranno le prossime poi dopo quelle non lo so riccardo rovai guido baldi devi c'è solo il devi in realtà però va bene interessante il gameplay che ci hai fatto vedere volevo chiederti per i video che software usi e poi secondo te è utile il reclutamento che si fa su world of warships un saluto cordiale ti seguo sempre con interesse specialmente per la tua sincerità gentilmente mi dici dove scriverti per la richiesta di entrare nel clan molto telegrafico per quanto riguarda il software io utilizzo solo ed esclusivamente due tipologie di software per editare i video e le foto utilizzo OBS per quanto riguarda la registrazione e lo streaming in passato utilizzavo XSplit però è un programma che non mi piace particolarmente ritengo che OBS sia molto più intuitivo efficace e anche piacevole da utilizzare per quanto riguarda le foto io le vado a utilizzare utilizzo Gimp 2.0 che è una specie di Photoshop però molto più semplice dal mio punto di vista e poi in ultimo utilizzo Sony Vegas Pro 17 per edit per montare i video ok quindi sono tre software in realtà il reclutamento che si fa su world of warships secondo me è totalmente errato perché ci sono spesso e volentieri il mio clan è stato soggetto di un reclutamento selvaggio persone di altri clan che si definiscono importanti top clan che però nel tempo hanno sempre fatto richieste hanno sempre mandato i messaggi alle persone del mio clan abbiamo gli screen che vanno a testimoniare tutto quindi non solo si dovrebbero vergognare ma dovrebbero imparare anche un pochino a stare zitti però purtroppo non lo faranno mai perché è proprio la mentalità che è del tutto errata poi vabbè io la penso così se vuoi fare richiesta nel mio clan puoi mandarmi un messaggio direttamente sul clan rn regia nave regia marina oppure davyj90 avrà risposta rocco valicenti ciao davy prendo un po' di fiato davy risponde ciao davy vorrei sapere come si affitta le unità su war thunder come mettere la modalità creatore ps ti stimo troppo non si possono affittare le unità su war thunder l'ho detto più volte l'affitto delle unità è riservato esclusivamente ai creatori di contenuti ora non posso dirvi concretamente tutti i dettagli ma molto intuitivamente capirete bene che una persona più seguita è più vantaggi ha ok quindi io sono come dire una goccia nell'oceano se paragonato a ovviamente youtube ad altri youtuber è creatore di contenuti su war thunder perché comunque sia la community italiana è molto piccolina non c'è molto interesse per questi giochi a livello inglese americano vi posso dire che i numeri che loro fanno nessuno mai penso poi non so se ci arrivo saranno eguagliati a livello italiano perché non c'è interesse l'italiano vuole giocare ad altro e quindi è questo alessandro spiacci devi rispondere secondo te qual è la nazione peggiore in generale su war thunder è perché grande devi su un mito continua così allora tralasciando il fatto che le migliori sono sovietici americani e tedeschi quelli sono poi i cardini del gioco se intendi la peggiore ma non l'ho studiata fino in fondo potremmo dire che attualmente la nazione cinese non è che sia una nazione che mi ispira totalmente dobbiamo però anche dirci una cosa che le unità che ci sono nelle altre nazioni cina israele e anche svezia sono un agglomerato di carri armati di altre nazioni quindi se dovessi scegliere la peggiore da giocare come esperienza di gioco ma non come unità perché l'unità alla fine c'ha il t62 e poi c'ha il leopardo sono carri presi da altre nazioni ok black tomcat devi rispondere potresti portare un tutorial sui radar oppure potresti portare anche come nuovo gioco dcs world allora un tutorial su radar risulterebbe abbastanza e ci stavo pensando è abbastanza complesso perché ci sono diverse tipologie di radar ci sono diverse tipologie di missili e devi muovere il radar lo muove a destra e a sinistra è un po' un casino il radar su world thunder però potrei anche deciderlo di farlo mi servirebbe però il mig 29 e l'f14 così andiamo a vedere concretamente i radar delle ultime degli ultimi aerei degli ultimi jet giovanni marco de simone devi rispondere appena iniziato i bombardieri americani avresti qualche consiglio da darmi per rivelarli velocemente e in quale modalità vai nella modalità realistica bombarda le basi quando ha una certa altitudine così si è anche safe quando arrivano i caccia nemici utilizzano i 12.7 e li massacri ovviamente cerca di potenziare subito l'equipaggio per quanto riguarda la vita del pilota la precisione dei mitraglieri e la loro resistenza in modo tale da rimanere più attivo possibile le altre cose te le lasci per ultimo donfla05 devi rispondere hai in mente di aprire un discord e se lo hai già di renderlo pubblico a noi iscritti allora per quanto riguarda il server discord io ho già un server discord dove possono accedere al momento esclusivamente le persone che sono presenti o su war thunder o su world of warships come clan renderlo pubblico non lo so volevo stavo pensando di dare la possibilità agli abbonati di entrare dentro il discord però è una cosa che devo valutare e sto anche rivalutando l'abbonamento sul canale ma è un argomento che ho già trattato perché vorrei in qualche modo farlo decollare per chi fosse interessato devi rispondere per caso il quarto gioco è silent hunter no non è silent hunter però ti do un piccolo indizio ti sei quasi avvicinato e mi fermo lì tommy mods devi rispondere mai provato un'arma al poligono di tiro p.s. il quarto gioco è space engineers no non è quello il gioco anche se ho capito quale dici non l'ho provata un'arma fisica al poligono di tiro però ho tenuto in mano un'arma ok vera però non ho mai sparato c'è questo che intendi non ho mai sparato Marco Vassia devi risponde potresti portare il carro leggero italiano M1139 BR1.0 ma è davvero assurdo per il mio penso vagamente di averlo portato o comunque sia dai un'occhiata sul canale sicuramente le unità italiane non mancano Marcello quello professionale devi rispondere il prossimo gioco sarà un simulatore di guerra no Ale Salmi ciao devi per caso il gioco nuovo è sniper elite no grazie di stimo molto ti ringrazio Blitz554 devi il quarto gioco è super mario no Drax360 il prossimo gioco sarà sniper elite no siete fuori strada Federico Buffon ma che vantaggi o se scarico War Thunder dal tuo link i vantaggi effettivamente forse questa cosa dovevo specificarla di War Thunder che io sappia sono veramente minimi ora non vorrei dire una cavolata perché non li ricordo concretamente mi prendi un po' in fallo e quindi mi salvo in calcio d'angolo dicendoti che attualmente non saprei darti una risposta concreta so però che i vantaggi che ho io dovrebbero essere equiparati a quello che ottieni ma non vorrei dire una cavolata quindi mi fermo lì ok Blitz554 gatti o cani gatti il quarto gioco lupo è star citizen comunque sei il mio youtuber preferito ti ringrazio non è star citizen se vuoi strada devi rispondere invece il subreddit Don Mucchino non ho il tempo per pensare anche al subreddit è un qualcosa che vorrei fare ma non so come fare se dovrebbe farlo qualcun altro al posto mio la su Rex devi rispondere dovrei iniziare a fare word thunder italiano o inglese dipende che lingua vuoi trovarti nel gioco io sono italiano e ti direi italiano allora penso di aver risposto a tutto è stato è stato un devi rispondere abbastanza corposo adesso come sempre tra l'altro le risposte non me le sono preparate semplicemente le vado a leggere di getto e vi do una risposta come sempre sincera a 360 gradi adesso sto scorrendo tra l'altro mi avete fatto gli auguri di natale e li ricambio dunque fammi vedere un attimo se c'è qualche devi rispondere nell'altro video tanto ci mettiamo pochi secondi dunque no penso che sia tutto allora ragazzi vi ricordo ancora una volta che se avete domande curiosità o qualsiasi cosa potete utilizzare l'hashtag devi risponde e andrò a rispondere in un prossimo video come questo quindi se la serie vi piace sapete cosa dovete fare io ancora una volta vi ringrazio per l'attenzione vi rinnovo gli auguri di natale e noi come sempre ci vediamo con un prossimo video ciao ciao è stato lungo oggi eh ciao 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 ciao